Amici di Sporteclore 2 Zero, ospiti del Museo Amarate, insieme a Giulio Peruzzi, come avevamo promesso, questa sera parleremo solo di prima categoria. Tanto Giulio ti ringrazio per la tua disponibilità, un girone, quello che coinvolge un po' le formazioni aretini, che si arricchisce per la prossima stagione della presenza di formazioni storiche con grandi tradizioni come quella di Subbiano e Bibiena. Possono essere due squadre che possono spostare gli equilibri? Sicuramente sì, come hai detto te, la prima categoria quest'anno diventa un ottimo campionato perché ho visto diverse formazioni che si sono arricchite nel loro organico dei giocatori di categoria superiore. Per questo sia la prima categoria e la promozione sono due campionati che quest'anno sicuramente avranno qualcosa in più rispetto alla passata stagione. La prima categoria, come hai detto te, Subbiano e Bibiena, le due casentinesi, sono due formazioni che sicuramente possono puntare al vertice. Bibiena ha riportato il panchino a Bronchi e ha fatto degli ottimi acquisti, Lunghi, Sorbini, Lazzarone, Maraghini, Razzoli, insomma tanti giocatori che sicuramente in questa categoria possono fare la differenza. Il Subbiano stesso con l'arrivo di un direttore sportivo Lugherini al mister Carboni stanno cercando di allestire una compagine che possa inserirsi in questa lotta al vertice per poter riportare appunto queste casentinesi, una di queste casentinesi o due perché prima la categoria c'è anche la possibilità di poter fare poi dopo i play-off e eventuali riprescaggi, di riportare queste casentinesi nel campionato di promozione. C'è anche il vice maggio che riparte da Bracciali però che perde giocatori importanti come Undine e Fei e arrivano Gironi e Bedolini. Sì, ha perso due ottimi giocatori, due giocatori che l'anno scorso hanno dato un notevole contributo alla causa del vice maggio e sono stati rimpiazzati con Gironi e Bedolini e sicuramente andrà visto naturalmente la situazione fisica e poi dopo tutto l'insieme tattico che preparerà a Mr. Bracciani per quanto riguarda appunto l'amalgama di questa formazione. Sono due giocatori, quelli andati via del vice maggio, molto importanti per la categoria. E sentiamo adesso il parene proprio appunto di Mr. Fabrizio Bracciani. Il nostro punto di forza è quello che dovendo sopperire a altri problemi, mancanze che abbiamo dobbiamo lavorare sodo e soprattutto lavorare tutti insieme se no diventerebbe molto 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 difficoltoso anche in vista del prossimo campionato. Un girone questo dove comunque bisogna tenere d'occhio anche la Sansovino che porta in panchina Violetti un tecnico che ultimamente ha avuto modo di ben figurare nei settori giovanili prima dell'Arezzo e poi del Perugia. Ma per questa nuova realtà come si può adattare o come si deve adattare? Ma diciamo che Sansovino sta allestendo anch'essa una formazione di primo ordine. Basta pensare che ha inserito Biscaro Barrini e Nicola, due giocatori che vengono da categorie superiori e hanno calcato anche campionati di eccellenza per diversi anni. e il nuovo allenatore che sarà Violetti naturalmente ha fatto negli ultimi anni notevoli esperienze nei campionati giovanili quando è in Arezzo o sono materato anche Sansepolcro in Perugia e sicuramente sei un tecnico preparato. Ora naturalmente c'è differenza tra settori giovanili e prime squadre però reputo Violetti un tecnico preparato ora tutto starà a vedere il fatto della conoscenza dei cacciatori e del campionato stesso perché sono cose importanti sia soprattutto nella costruzione per poi dopo andare a mettere in campo il sistema che riterà più opportuno. Montagnano e Alberoni possono ricoprire il ruolo di terzi incomodo e soprattutto possono puntare al campionato di vecchi? Ma sicuramente sì, sicuramente sì insieme anche alla Valdigliana sono in quella zona lì ci sono delle squadre come hai detto tu Alberooro, Montagnano, AMC Valdigliana che possono darti il filo da torcere alla favorita che è sicuramente la favorita in primis credo che sia il BBN. Credo che queste squadre abbiano all'interno dell'organico dei cacciatori che possono far sì che queste società stesse possano togliersi delle soddisfazioni. Ascoltiamo adesso nel passaggio sul commento di Mirko Barroncini e poi di Gianluca Scarnici. Ho chiesto disponibilità, io nonostante che tutti questi ragazzi siano ragazzi di categoria superiore, se umanamente non riesco ad allenarli secondo me spesso si perde tempo. Se loro si mettono a completa disposizione e si integrano con i ragazzi che ho già allenato diventa un divertimento per tutti. Venire al campo deve essere un divertimento, però secondo me devi venire con la predisposizione di cercare di ragionare e di far contento le persone che in quel momento cercano di insegnarti tra virgolette qualcosa. Certo, ripartiamo con tanto entusiasmo sulla falsa riga di quello che è stato il finale del campionato dell'anno passato. Ci sono tanti buoni propositi, abbiamo fatto degli innesti che riteniamo importanti, soprattutto per quello che è stato un completare la rosa con omogeneità in tutti i reparti. Proprio sulla base dello scorso campionato, tra le favorite, sicuramente possiamo mettere il Rassina che affida la panchina a Borgogni e quindi da questo punto penso che si voglia ripetere. Ci sono la condizione per potersi ripetere? Ma il Rassina l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato avendo un organico di primo ordine. Credo che era anche una delle favorite alla vittoria finale. Ovviamente ha perso l'ultimo spareggio con il San Quirico e ora bisognerà vedere nella costruzione della squadra quanti e quali di quei giocatori, perché già ho visto che De Luca è andato via l'attaccante, è andato via Razzoli, centrale e difensivo, cominciano a perdere delle pedine abbastanza importanti e bisognerà vedere queste pedine importanti come verranno sostituite dalla squadra casentinese. Se verranno sostituite adeguatamente sicuramente anche il Rassina sarà una, insieme alle squadre che prima abbiamo citato, a fare un campionato di vertice per puntare naturalmente ai play-off sicuramente. Giulio, per concludere, una battuta sull'Olmo Ponte, una formazione neopromossa che sicuramente ritrova la prima categoria dopo qualche anno d'assenza e se lavorerà nelle strette. Sì, l'Olmo Ponte sicuramente essendo una neopromossa viaggerà soprattutto all'inizio sulle ali dell'entusiasmo. È normale che poi dopo dovrà fare i conti con il campionato stesso, dove, come abbiamo detto precedentemente, si annoverano diverse formazioni che hanno costruito degli organici importanti. L'Olmo Ponte sicuramente cercherà di fare un campionato tranquillo, ci saranno anche altre squadre che cercheranno naturalmente di evitare i play-out e poi ancora dobbiamo valutare anche la formazione del girone perché ad oggi, penso, verso fine mese si sapranno appunto le composizioni dei vari gironi dei campionati direttantistici. A quel punto potremmo fare una esamina più completa del campionato stesso, sia di prima categoria ma anche di tutti gli altri, avendo a disposizione i gironi, avendo a disposizione gli organici ormai completati e naturalmente a quel punto potremmo spendere qualche parola in più sugli obiettivi delle varie società e sugli organici costruiti per raggiungere questi obiettivi. Bene, ringraziamo Giulio Peruzzi, il Museo Amaranto, per l'ospitalità e quanto ci hanno seguito e vi lasciamo al commento di Francesco Martoglio, responsabile della prima squadra dell'Olmo Ponte insieme a Pallini. Buonasera e grazie a tutti. Questo è un gruppo stratosferico per quello che hanno appena guadagnato sul campo questa promozione che abbiamo chiuso con una sola sconfitta a prima di campionato, quindi hanno fatto veramente una stagione stupenda. Quindi il gruppo è fondamentale, è quello che cerchiamo di mantenere e a quello poter raggiungersi magari qualche giocatore per cercare di renderlo ancora un pochino più competitivo. Grazie a tutti.